Musica Musica Vérité News Télévision Musica 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 Grazie a tutti. 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 Talla lelo o yu, e lo bata vien da Ginebou, tala la kege sali, talla lelo o yu, talla lelo o yu, rai sapi nina mamadokaste bapa, nizan di ba tangani bama koso, ba tangani bilo kwa nzo to mokon mokon sima mousousu, cela veut dire ke, an se mokon pa de dieu, ba wain ya nizan be ba eli ya nizan be soko lukeli, ba wain ya nizan be ba problemi nizan be baka tre sever, Olanda, nizan be baka tre sever, nia ba eli ya nizan be, ba eli ya nizan be baka chwa de l'eternel, mouan mouto ba bengi chwa de l'eternel, mouto ba bengi rezerva de l'eternel, nizan be soko si o meki na ye nizan be baka jiste pou na ko frappe re severman, se le fransais. Bato nyo soba sangana gana objektif, topi na li kani sa ko bebi sa baninga, topi ya ko bomamba baninga, nizan be baka konfonda ka toujou. Justice a nizan be le kaka, justice a mokili, ya mokil toke na to fouti, petetra droa to fouti penalite to fouti bo to soli pen esili esili. Men nizan be frappe kati na seteine generasyon, de generasyon en generasyon. Li soumou mouto mousou a salara bandakala me ekite li batouni yon son. O le batat bibel batoun souba liemara moutou ba benefisi na mandam na ngayango. Mouto le ki manga moutou mousousou, me mouto waki ngayi moutou mousousou. Cela veut dire ke mouto, o lok o salara nan te mek, o herite ma be mongod mouto waki la salaka. Mara moutou mou anakata rezo chouchou. Mouto niyo sono ba sangana bula ko sangana, ko sangana konakou beti sa repiti ya so ba dinan to konakou sali, e majabani nga. Nzambaren an denge kaka konfondara bango. Ba la rato jou pini de faso, de faso dadan denge nebele. Le lo to ki na ba voice, tope lo bi na emisyon. Raissa si li diabi abimi sa ka ba voice, polani ba peki si mama mama dorka salo ba te mama dorko sfo zwa kizo vando explike biso. ma la mia guerra cifrò lo so che sorprende da piccola ma ma講a poeta su svaki sofa le spie che riso anche tu corri né con casa betice come ho expliquei anche pare bellissima dire imperame leggerna è di resa con la 72.3 si Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non Non. Non. gli altri 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 ci diccio mamma chiudere i le ma ete è il nostro youtube il nostro per favore a dirvi che tutti sono inoscili non so se non sono inoscili questo non l'imitero che non lo so, non le vanno perché non ho innamorato tutto fanno una mission io saluto tutti quanto sono in Italia non ho innamorato con il fanno Cosa vuoi, trochuopone, fino al tempo francamente nel tempo se si non si avessi ahowE si% i passi a lieve nona cendeni 3 doci a rivelata mouton mamador gasse su che osa piena un cadrez spirituels sono le film e vera qui l'appellera di parisah e per la pelle a dirak arisa dire a sua Noi, le mia mamma mi ha avuto una missione, il visto che io ho capito, sono lì, questi sono i amici, sono i amici? Noi, sono a raggi! Non è una cosa che chiama mia sincera è, stiamo convocare Karim e persone che persone che non hanno hauto passarelo a loro. Non so, non so come la mia vita di la lui rappresentazione dell'egil maturità. Non so come se come la mia vita di lui fa che весa l'unico con i contari. Non, allora la mia vita è una cosa che si viveva. La precia come rciò se teaspoonsando la carta fronte sempre 17000 euro E vannoZo che schaut specifici Ci ci sono tutte belle Le ce che poi li rappresarci Anche E lo come non dice Di che chiede mi profuso Ci siamo α Minh Zamontanti Il bisogno di fare C'è qualche tempo Non già la prendenza? Non, che direi che parlano sotto non si allenano sotto non si allenano su un prodigio becchia Wedge e fiendo che effetti L'indice in cui non riazza riazza il sole che pete di pallone il bambina in casa Ma battuta in casa L'indice in casa ma so che sa sua vita parvegare se mi riazza ma so che ci stanno l'indica 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 la ricetta su youtube si l'indica su youtube si l'indica mi dica si quel punto il marino po Beli Quote La Babo Nda Santa Quote La Babo Babo B aze Babo Bona tassi a gloria Baboumda Satan Pote la bango 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 Baboumda Satan Baboumda Baboumda Piso Tu kaboula kate Maboukwe katana Rai sefo lo parco sacano commentaire isa la piso chanella ropetta boccia 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 bacchusse brazo con sovravo controlla bettise d'oreza bettise durabama verità io ancora la verità da verità la source Fortune solo su sua cosi al posto si fornissi sarà troppo e chi ha troppo e chi ha source su sé que la forza informazione source e continuo potu secondozza siano informazioni no e va tutto il fa morire qu'est ce qu'il va fa che stile si sono i dorso ma madre ma come l'onizare alo è carri ma mamma mia è la mamma mia i carri palmi ti sono perché la racc Renaissance se soltano la mamma quando la mamma quando la mamma in 되는 c'est la strada di Sanjimo la strada la strada di Sanjimo la strada di Sanjimo la boxe l'icola mette l'analogia lancina sima la carotte menacima la la mucana sima boicaca 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 l'unica la gioia nazi telefona tombo di allo madame non d'accordo che ti rappelez le quotient c'est le dossier samabé non c'est là non j'ai rappelé marre ap betonpou je m'a appris que tous les trois pouvoirs les plus qu'est ce qu'il y a un talent si la pannée sage aussi longtemps madame en ta la n'y atterna de la paix allo oui mais bonjour madame bonjour madame qu'est ce que j'ai entendu c'est ça tu es un cadeau de sony dans unورna manique des abonchions le mani comme je mais elle ya des bijoux la piste et maram tout carré Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non ma bena mechancetè a mouton moukile. Po mouna degre, po mouna degre, bo bo kreelepe moujek, nanaka proverte che moujek, nanakarine, bau solape soute, po bo ganyè kouan anretour. Ani ma bo mi un kousego. Po bo ganyè kouan anretour, so ki lolo madame nanakarine, bau solape, bo salanet yoni. Po bongongong kreye lika moukouan anoutou damakoubo, pis sa moukouan anoutou formé. Ano degre, ba zozo, bolo mwa, o to bengani bi no mo, mo mo ba zozo, mo tzindjiwa ba ngoulou. Mo li mo ba zozo, dothindjiwa ba ngoulou. L'esprit de le zozo, on l'envoie chez les porc. Mo n'envoie na français. To boatiè wa ba ngoulou. Mo n'a place si te hawa, apato ka ngak, mo n'a. Nan madame cha ki to, kanga ba porc sa ki songi, songi, atouye ki, ah madame sa ki tali ka mou na never trance. Nan never trance, 30.15 segon, atomo telephon, mo konzi, nan yo ki boye, 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 piyang, 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 madame, esabomote, 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 ah ah ah, ok si bon. Le roi, tu m'a comprenant déjà, ke batu, balu, ka bo, ka ba kabo, la ba ngou, bakou ma, déjà, très ferme, pour votre information. Vos campagnes la de destin, ça sert en rien. A la place, a croyez que sa va campagne la de destin, il faut que sa madame sa joie, sa vana, et sa fin, et il m'a dit que sa fin, yo madame, ou si cali ka mou boye te, en poli, so mané, fou polé, elle est a, 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 le roi, a, 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 m'a dit qu'il faut y'a, t'es madame, d'où sa bongo, t'es bongo, t'es bongo, t'es bongo, t'es bongo, la manokie, ma d'opportunità che la doccia di farise a sapato ma bambina spettiamo ma mingarra isa ah ah isa è Stavale e questo è Stavale Stavale spettiamo la mia stessa Grazie a tutti i nostri amici non ok io una costerna che una città ok arrenze, arrenze, arrenze e proprio questo è oggi non tratti sono versusi loro se ci ha 5 mili abonni sono 5 mili abonni 5 mili abonni 5 mili abono ci sono dei tuoi ci sono delle progetti ci sono le tre ci sono le tre ci sono le tre è che cosa le probleme no trasforma cosa vuoi anim reacting allaudescia non c'es rosso come la �'informazione sono una forma di estrele mamma calcio Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non Questa sarà il e per me diavara la vita di carrier, vendita il e che è la mia foglia, unirmiocca. Quoi stiamo a me diavara? La mia moglie di pesca è un mio po' Paglia che passano i versetti in zona riasa, nella mia moglie, a come le ducati. Noi, buti un po' di nono, non so la mia moglie, è iniziato asteri una una un un uno Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non non va tu nisa tu nisa a raii sarah mamma dorca se go su calo le ne e kani monito su donna minuti netto come many eccelli eclipsi eclipsi ebima patriezzi le netto monia nemo cani superi un pito tono cana new pito tabi loca bolo quando dieci che no c'era la e suite favorable perché ci sarà citare in questa per la informazione che non n'è non c'è il n'y a pas de guerre d'esprit non c'è il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas tout est carré, tout est contre la ville est très calme grâce à des carrières grâce à madame jacquipo un grand merci à la fondation la seule fondation c'est pour très très bien c'est pour très bien fondation fondation le roi de Mekaton c'est une donnée depuis Jubek bap Sleep bos C'est un trésor le roi de Jubek c'est pour très très bientôt que tu es là ça b liberation oor du Bob fil c'est bien parce que les droits sont très calme Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.